o prendi poi prendi poi prendi pepe buono su scudo non volevo lasciare quello riprendi lo sapevo lo sapevo lo sapevo che c'era qualcuno o no 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 salutiamo e ce l'andiamo grazie ragazzi più dio il lanceratrice ha passato vicinissimo per un secondo se dobbiamo andare dove andiamo ma dove andiamo non abbiamo penso di esperienza ci serve una marea di benzina noi siamo da soli e quelli sarei in due la mano lo manovrano benissimo dobbiamo adorare assolutissimamente le armi di pasqua e sapete quali sono le armi di pasqua solo una ed è scarsissima 15 dobbiamo mettere sicuramente una strategia utile per fare qualche chiletta furbetta quando vediamo al mirino o che quello però lo pillo io va bene anche così va bene anche così che si si bravo proprio no 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 miramelo e miramelo mamma maledizione guarda non l'ho preso per niente loro sicuramente mi danno una bastonata ci fanno saltare eh ci fanno saltare eccola qui eccola qui eccola qui eccola qui con la bastonata che vi dicevo ok 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 non è più un buon momento questo ciao ragazzi buonanotte sicuro ma chi mangia c'è ma cosa è quella cosa volante ha un airdrop mi hanno cecchinato pure quindi direi è meglio proprio cambiare aria ma prima io trovavo sempre questi lanciagranati con le uova di pasqua e sono scarsissimissimi oh mio dio ma spano di qua è già qui il car armato meravigliavo si è quella cesta lì è quella cesta lì qui lo trovo al 100 per cento è qui lo eccolo a volevi lo so lo so lo so e da pazza e da pazza e da pazzi ma dobbiamo ritornare qui a croce via perché dobbiamo assolutamente prendere un jetpack abbiamo bisogno di moving quel car armò meravigliavo è ancora fermo immobile nella speranza che non ci sia nessuno all'interno di questo mega dirigibile ci sono due player in i che stanno buscendo il cararmato ok fai danno tra di loro c'è che la guardia quindi sicuramente il tempo non guarda 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 ti voglio bene io voglio bene o perché la miseria ma quando ne abbiamo troppa degli cildini ok non si sa per niente ma sia di fretta dobbiamo cercare un'arma almeno per fare qualcosa 28 player in i vivi vuol dire che c'è un fenomeno all'interno della lobby e non sono io di certo occhio eccolo il fenomeno eccolo il fenomeno ci ha distrutto tutto lo scudo ausiliario forse è meglio scappare via meno male che abbiamo preso il jetpack almeno ci vogliamo sicuramente molto molto velocemente quel tizio ci verrà push for calanzeria un pagliaccio nell'acqua c'è un pagliaccio nell'acqua ce ne dobbiamo andare ma non mi dite che hanno rimosso il lanciacanate perché non so davvero come possiamo fare altrimenti o forse eccolo un secolo forse ma non mi passi qui mezzo sì 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 stessi snow e lanciagranate quell'altro ma porca la miseriaccia ti prego lanciagranate non mi far fare tutto ma che cosa prima volta me ne accorgo questa è la casa questa è la casa questa la casa dei desideri si chiesto si chiesto premia mi premia mi premia mi e porca la miseria ma non mi premia mai nessuno eppure nessuno ci dovrebbe giocare perché è così scarsa quindi lo dovremmo trovare per forza da sti vizi da qualche parte no in questa casa c'era ufficialmente la tristezza quindi meglio macchina bloccata ovviamente l'abbiamo trovato finalmente ok meno di nuovo il problema sui colpi ma possiamo fare qualcosa possiamo ragionare su qualcosa ovviamente dobbiamo andare per forza che era questo sound dobbiamo andare per forza al daily perché qui che troveremo sicuramente una bordata di colpi ma è quasi quasi direi prendiamocela larga andiamo porca o porca o porca o calmi 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 bravi bravi questi hanno una mira pessima ok ci danno tempo per scappare uova di pasqua proprio in tema con la challenge pascolana molto buona molto buona così scappiamo anche più velocemente da sti vizi è il clown proprio che ci spara niente ha rovinato tutti i nostri piani dovevamo contornare dovevamo fare il pericolo del daily ma a questo punto ci andiamo dentro ma è pieno di player in e sono sicuro al 100% perché molti avranno già preso dai ground qua sopra vediamo speriamo di non trovare tantissima gente il clown continua a spararci ma non ci prende minimamente le sgole sgole sgo di ragnatela bella colosa ok sembra non esserci nessuno per il momento molto buono e allora cerchiamo colpi va e amici miei mi raccomando all'interno del negozio jet in street utilizzate il codice più fresco del centro italia r4 sco nemmeno ve lo dico che la cosa più difficile da trovare sono ok dice un player in molto molto cattivo di prego colpito ma guarda che chiappe ma guarda che chiappe ok in realtà chiappe a metà perché alla fine sono solamente due colpi più ne dobbiamo trovare una bordata se siamo fortunati ma ovviamente abbiamo la nostra classica sfiga che ormai ci persegui dai vogliamo anche bene 8 player in i vivi noi ci dobbiamo che cos'è un car ma un meraviglia o ci dobbiamo inventare per forza una strategia un piano stanno sparando qua davanti sento dei strani sound non vorrei che davvero c'è un carro armado che ci aspetta su uno dei sti pizzi o mio dio è qua dietro da qualche parte il vigliacco se player in i vivi e stanno sparando dietro questo vulcano di una roccia di questo vulcano che non sono mai rocce ma no questa è la ciasc che abbiamo aperto prima ok lì c'è una bella rimbalzella c'è una bella show 2 che quasi quasi mi vado a prendere solamente che dobbiamo scendere una portata di piani ma lo facciamo con piacere sei player in ancora vivi c'è stato desideri di prego dammelo 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 da guarda le armi ma guarda le armi quando non ne posso usare sempre quando faccio su queste challenge mi escono delle armi allucinanti non la troveremo mai non la troveremo mai e invece si l'abbiamo trovata colpi no niente colpi qui colpi o anche un altro un'altra armetta di pasqua non sarebbe male e no ovviamente tre player in i vivi a casa no porca la miseria ok fermi fermi tutti fermi 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 tutti proprio tutti 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 ok cararmato poi me lo prendo buono 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 cararmato no 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 oh ma che mi fai morì vai 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 o sparano dietro forse o porca la o può sarà duemila questi è sarà duemila hanno capito che noi siamo un pivellino un mio dio che distrugge qualsiasi cosa però che non è affatto male sta roba occhio o cecchino no ragazzi ok 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 ho capito benissimo il vostro messaggio l'ho capito davvero bene loro hanno le ground noi siamo fu 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 fregati non so minimamente come fare per vincere questo game non lo so davvero perché loro due belli miei voi siete in una posizione assurda io non posso sparare sicuramente uno cena a prendere qui dalla sinistra occhio diamo una spizzata di qua di là porca la miseria mi hanno devastato mi hanno devastato un esceso buono 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 se prendiamo le grazie riprendiamo porca che paura adesso questo 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 ok 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 abbiamo le ground no 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 anche questo c'è le ground però ragazzo ragazzo bravo scivola via scivola via mollusco e dobbiamo killare almeno uno abbiamo solamente otto volpi o no no ragazzi 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 ma siamo qui per divertirci non c'è bisogno che ci spariamo in questa maniera occhio che un polletto è rimasto ok questo ci prende dolcissimo o cecchino de no però signori non ho nemmeno rifugio ma se è un figliacco ma non lo vedi che ti dirò uova io questo dobbiamo killa vediamo se almeno non guarda ste granatelle dove diamo rimbalzano non riesco proprio a prenderlo vai granata ma vai da lui oh ma che va all'interno questo è un polletto no rega questo è un polletto scarsissimo sto plegierino se ti posso prendere ti posso regalare ma porca la miseria ste granate non hanno ma no lo prendo da piccolate non mi interessa anzi fermi 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 e questo è un polletto bollettissimo lo buttiamo all'interno della tempesta questo mi spara dove diavolo è quest'altro basta 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 fermi sono entrambi fermi 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 e questo sempliciato no maledetto ritorna giù rito numero di è numero di è numero di non me lo dì vi hai giù vai giù vai giù no no non venire su non ti dico peggio cucciolo ti dico vai giù e fai giù maledetto ok buonanotte fuori fuori che il loro che il loro e il loro e guarda tu che si affeggai non aveva 30 di vita l'ultimo viscito quasi ce la portava a casa peccato ma era impossibile questa challenge mi raccomando all'interno del negozio oggetti inserite utilizzate il codice più fresco del centro italia r4 iscrivetevi al canale a tirare capellina dell'olio di vetro poi un bel ecco detto se ancora non l'avete fatto ora vi lascio un video bombattati posso fermo mi raccomando andatevi a vedere noi ci vediamo presto con tante altre news e l'estra